Siamo qui con Giuliano Livati, vicepresidente alla comunicazione social di FIAIP. Lavori in corso per la comunicazione e per il rilancio della federazione a questo consiglio? E sì, come vedete, lavori in corso, perché il cantiere della comunicazione non si ferma mai e noi dobbiamo comunicare tutto ciò che fa la nostra federazione sul territorio. Tantissime iniziative, centinaia di iniziative tutti gli anni, direi migliaia messe tutte insieme, che costituiscono il valore della professionalità degli agenti immobiliari FIAIP. Questo noi oggi vogliamo farlo in modo sempre migliore e per quello siamo qui per imparare a farlo sempre meglio.